Asili nido gratuiti per i bambini fino a tre anni, per le fasce di reddito fino a 40.000 euro. Potrebbe essere una svolta fondamentale per tante famiglie toscane, visto che qui un bambino su tre frequenta un nido a fronte di una media italiana di 1 su 4. I dati sono emersi nel corso della Convegno Nazionale Educazione 06, Diritti, Qualità e Accessibilità nel Sistema Integrato all'Istituto degli Innocenti di Firenze, ed è proprio qui che il governatore Eugenio Gianni ha annunciato che il nido potrebbe diventare gratuito già dal prossimo settembre. Noi come regione avevamo posto l'obiettivo di arrivare proprio per favorire i nidi e il loro servizio, di rendere gratuito in una fascia di età reddito più bassa, che io inquadro a seconda delle risorse che potremmo avere dai 30.000 ai 40.000 euro l'anno per famiglia, la gratuità in modo da far venirne l'accesso e l'uso e lo abbiamo previsto nelle risorse che ci vengono destinate dal Fondo Sociale Europeo. Un cambiamento possibile già da settembre se tutto andrà come previsto. La condizione è infatti l'arrivo delle risorse del Fondo Sociale Europeo a giugno. Siamo nell'incertezza della previsione di quello che potrà essere durante il corso dell'anno l'utilizzo di queste risorse. Se, come nella previsione più ottimista, arrivano e possono essere programmate fin dal mese di giugno, noi per l'inizio dell'anno scolastico 2022-2023, ovvero da settembre, cercheremo di mettere in atto queste misure che rappresentano l'obiettivo. Grazie.